Ho fatto in tempo a prendere le varie cose per montare il poggia di camera Che Ari, no, Ari, ho chiamato a farci dalla sedia Dovevo praticamente ragazzi mettere queste scatole in modo da fare un bilistallo per la videocamera E ma a quanto pare qualcuno non mi lascia fare il video, io vorrei sedermi Ari su questo posticino bello, lo so che ti piace Tesoro, potresti per favore spostarti da qui? E ciao a tutti ragazzi, mi sono benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo arrivati in un vlog molto particolare Praticamente sono appena tornato a casa ed è arrivato un pacco da Amazon Questo pacco ragazzi infatti è un regalo per mio fratello Perché aveva un cellare che non andava spesso, si spegneva, batteriava praticamente niente, un sacco di problemi E allora ho voluto prendergli un regalo, un mega regalone, ovvero l'ultimo Samsung Galaxy S9 Plus Che io ho trovato veramente scontatissimo, circa un 300 euro in meno normale Su un gruppo praticamente affiliato da Amazon È un gruppo che si chiama Le Offerte del Giorno E cosa fa? Praticamente vi linka, vi raggruppa tutte le offerte di Amazon in questo gruppo Telegram Semplicemente riportandomi poi all'appunto Amazon Quindi comprate in Amazon con le varie offerte, però canale Telegram Io personalmente ci sono dentro e diciamo che spesso, tipo due o tre volte al giorno Controllo tutte le offerte che mettono, perché ragazzi sono veramente tantissime E appunto ho trovato scontato non di poco l'S9 Plus Facciamo un regalone al mio fratello, voglio assolutamente regalargli un nuovo cellulare trovato decisamente a buon prezzo Ora andiamo un secondo ad aprire Occhio che ecco, eccolo qua ragazzi Ovviamente parentesi, vi lascio tutti i link in descrizione ragazzi perché sono veramente una cosa utilissima E successivamente vi dirò anche di un contest molto importante per provare a vincere tipo una roba come In totale sono circa 200 euro di buoni Amazon appunto a spendere su Amazon Quindi mi raccomando seguite il video fino alla fine Non voglio fare semplicemente un regalo normalissimo a mio fratello Voglio, voglio farle anche una sorta di scherzo Ovvero dentro andrò a mettere una cover, una cover al cellulare Così ora andremo ovviamente a aprire tutto quanto E tuovendo il cellulare metteremo la cover appunto del cellulare Quindi quando mio fratello aprirà la scatola dentro, tutto contento Vedrà che all'interno ci sarà la cover Ovviamente poi andremo dal cellulare Ma inizialmente voglio vedere la reazione che ha del regalo Perché è un regalone allucinante questo La reazione di quando vede appunto la cover E successivamente la reazione di quando avrà effettivamente il cellulare in mano Quindi andiamo ad aprire questo coso che non so come si apre Metodi professionali Dai ma come si apre sto coso? C'è il gatto che mi sto guardando per dire Ma che cazzo stai facendo con questo robo? Scusami è così facile l'aprire Oh ok ce l'ho fatta perfetto perfetto Eccolo qui Siamo riusciti ad aprirlo Quindi finalmente Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Allora Qui sono tutte le varie situazioni che non c'è interessante momentaneamente E qui Oh paurissima Ho il nostro cellulare Perfettamente nuovo Con tutte le robe impacchietate ragazzi E' uscito apparentemente Poi l'ha detto fatta la fabbrica E il problema è che ho sbagliato un po' che tempi Perché purtroppo la cover arriva domani Io purtroppo non mi aspettavo che il pacco fosse così in fretta Quindi ho detto ok ho tipo per prendere la cover Soltanto che purtroppo arriva domani Quindi facciamo così Ci vediamo domani Cioè per voi fa pochi secondi Con la cover e l'inizio dello scherzo E ovviamente l'impacchettamento Perché dovrà essere un regalo fatto bene A domani Allora ragazzi è passato qualche giorno E io ero al pc adesso Ed è arrivato qualche minuto fa La custodia Eccola qua L'ho già aperta ragazzi Anche questa qua da amazon Sostituiremo momentaneamente Il cellulare con la cover Magari la mettiamo da questa parte Adesso vediamo un po' come metterla Ok Allora Qui c'è il nostro S9 plus E lo mettiamo in un posto Che per il resto direi che qua Può andare più che bene Ricordiamoci se può solo perché lì Non deve assolutamente stare Ci sta Oh guarda che ci sta Quasi perfettamente Il problema è Le istruzioni ci stanno Qui sopra Eh no cavolo Dovremo ingegnirci un pochino Penso di saper come fare Questo coso qua Che fa spesso Dai Quanto difficile con una mano Questo vuole fa spessore Possiamo spostarlo Toglierlo Inserire qua le cose A contatto diretto con Carica batterie e altro E mettere successivamente Le istruzioni Mamma mia ragazzi è perfetto Vero che è perfetto Ari Vero che è perfetto Ciao puzzolina Comunque Questo lo metteremo insieme Al cellulare Da parte E il resto vediamo un po' Dove nasconderlo Ora ovviamente Non servirà altro Che richiudere il tutto E mettere la sua Oddio ma ragazzi Ma è difficilissimo Con una mano Come faccio Con una mano Come si fa Come si fa Ora andiamo A fare l'impaccamento L'impacchettamento Ecco si Vedete questi due enormi I miei scatoloni Sono entrambi Pieni Di cose Per fare Pacchetti Tutto quanto E altri miliardi di cose Solo che io non sono molto capace Quindi useremo Questa busta Allora ragazzi Ho messo Il cellulare appunto Nel labor Ho messo due inquadrature Giusto per rendere Il tutto un po' Più diverso Perché se no Mari da questa inquadrature Può uscire Quindi adesso lo chiamo E voglio vedere L'effetto che ha Inizialmente Quando vuole il cellulare Ma soprattutto Quando si accorge Che c'è solo Una cover dentro Poi ovviamente Andremo a dargli Il cellulare vero e proprio Harry Harry Di un secondo La madonna Esatto Senti un attimo Senti Beh oddio Forse Voglio farti un regalo Ok So che il tu cellulare Ormai Non va benissimo Sta più o meno morendo Ok Ho fatto Fatto un regalo No No Dai aprilo Non sta anche così Magari è una roba del cavolo Dai aprilo Su forza Ciao Oddio Madonna Cazzo sia Ero già partito Per controllare qua Sento disabile Quante cazzo di scatole mettono sti cosa Tu mi illudi Però io mi tengo la pena No no Eh io me ne vado con questa Eh infatti E' un questo E' andartene via Dai tieni Questo è per te Io Io no Dai tieni Da forza Dai tieni Vieni qui Vieni dai Contento? Si Però mi sento anche un po' in colpa Cioè non me l'aspettavo Eh dai Ogni tanto faccio anche dei regali belli Ok ragazzi Io spero che questo video Scherzo vi sia piaciuto Ringrazio ancora una volta la pagina telegram Le offerte del giorno Per avermi fornito a questo cellulare A un prezzo bassissimo Praticamente Vi ricordo che è tutto normale Legale Tramite amazon Quindi un modo sicurissimo per comprare E ora ragazzi Il modo di vincere le gift card Dal valore totale di 200 euro Infatti sono in palio diverse gift card A chi da 100 Da 50 Da 25 euro E così via Che potete vincere ragazzi Semplicemente seguendo Le varie pagine telegram Vi lascio tutti i link utili In descrizione ragazzi Mi raccomando Nel link è una roba importantissima Perché secondo me Io stesso parteciperò E partecipo perché secondo me E' un modo facile Per provare a vincere Un bel po' di gift card di amazon Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo un bel like e un commento Se vi sia piaciuto Ci vediamo domani con un nuovo video Ciao Ciao